Ciao, benvenuto in questo video e qua vediamo subito ClickFunnel perché effettivamente può portarti un sacco, un sacco di ritorno sia a livello di nuovi clienti che di fatturato perché grazie a ClickFunnel puoi anche vendere i tuoi prodotti online in modo veramente, veramente semplice. Ok, in questo video vediamo brevemente cosa ti permette di fare ClickFunnel, vedi all'interno del tuo pannello hai la possibilità di creare in maniera molto semplice i tuoi funnel e ovviamente i tuoi percorsi guidati per vendere i prodotti o in affiliazione o prodotti che hai direttamente, ma puoi fare molte ma molte altre cose, puoi trovare nuovi clienti, puoi creare interazioni, puoi fare tantissime cose. Vediamo brevemente, velocemente come ad esempio è facile mettere online uno store, ma ci tengo a dirti anche che per usare bene ClickFunnel devi uno, avere una guida diciamo d'utilizzo e due, devi anche sapere quale strategia utilizzare perché non basta avere il programma, il programma è fondamentale, ma devi avere anche le strategie, devi capire cosa fare, come farlo, perché farlo, cosa succede, vedi se gli fai fare determinate cose, quindi c'è un po' di più di solo l'uso di ClickFunnel, ok? Però ci tengo a farti vedere questa cosa qua, ad esempio possiamo decidere di vendere un qualsiasi prodotto, ipotizziamo ad esempio un libro, scegliamo ad esempio questo store, ok? E qui possiamo veramente sbizzarrirci perché possiamo mettere qualsiasi cosa, adesso te lo faccio vedere proprio in questi pochi minuti come è facile creare la pagina di vendita. Ovviamente puoi utilizzarla ad esempio per i tuoi prodotti in affiliazione, quindi raccogli le mail, poi mandi sulla pagina di affiliazione o ad esempio se hai dei prodotti tuoi da vendere o se vuoi creare un piccolo e-commerce o altrimenti se ti serve poi per andare a vendere un servizio, ok? Quindi puoi fare praticamente qualsiasi cosa. Guarda, è molto semplice, tu basta che vai poi sull'editor, una volta aperto ti apre tutti i blocchi ovviamente, quelli interni, e hai tutto esattamente drag and drop. Quindi tu immaginati di avere questi che sono i tuoi prodotti, che rimangono alla pagina di acquisto e in tempo zero permettere all'utente di vedere i tuoi prodotti, sceglierli e andare sulla pagina poi di acquisto. Nella pagina di acquisto ovviamente forma, adesso vediamo anche come crearlo, è veramente molto semplice, ok? Intanto vi faccio vedere per modificarlo ad esempio, vedi? Basta andarci sopra e scrivere, ok? Questo l'utilizzo tantissimo, ClickFunnels, sia per fare ricerca di nuovi potenziali clienti, ma anche per ad esempio vendere prodotti in affiliazione, ok? Adesso torniamo un attimo indietro, ti faccio vedere anche come si può semplicemente creare un prodotto, ad esempio vendita, ok? Quindi, diciamo adesso andiamo a creare una pagina di vendita, no? Una pagina dove il cliente quando ci finisce sopra mette i dati della carta di credito e paga, ok? Vedi? È tutto praticamente già fatto, ok? E hai la possibilità di andare a scegliere ad esempio già dei format dove hai ad esempio già il form con i vari metodi di pagamento, quindi la carta di credito, guarda te lo faccio subito vedere, vedi? Hai la possibilità di modificare ovviamente, possibilità di mettere i dati della carta di credito e ovviamente puoi anche andarlo a modificare e aggiungere i tuoi prodotti, quindi puoi andare ad aggiungere più prodotti nella stessa pagina che poi il cliente selezionerà. E tutto questo in maniera molto semplice. Perché ti faccio vedere questo? Perché te lo faccio vedere soprattutto in breve? Perché in un video è impossibile farti vedere tutto? Ma ho preparato per te tre video che ti spiegano, anzi in verità sono quattro, quindi tre video che ti spiegano esattamente che cos'è il funnel e come devi impostare un funnel e un quarto video che ti spiega tutte le funzionalità, tutte le potenzialità di ClickFunnel. Quindi prima di prendere ClickFunnel, prima di fare una decisione, clicca sul link che trovi alla descrizione di questo video e fai subito il corso gratuito su ClickFunnel e il funnel marketing. Ciao!